Entro una settimana JSW Steel Italy presenterà il piano industriale per il rilancio dell'area di crisi di Piombino, aggiungendo ai 220 milioni di euro di investimento già effettuati altri 15-20 laminatoi. La novità è stata annunciata alle organizzazioni sindacali dal presidente della regione toscana Enrico Rossi dopo un incontro che si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cui erano invitate istituzioni ed enti coinvolti oltre ai quattro ministeri. Il presidente Rossi ha definito la riunione positiva nonostante la lentezza con cui sta procedendo la vicenda. I lavoratori chiedono da parte di tutte le istituzioni una maggiore attenzione, capiscono che la situazione non è ferma, che c'è un imprenditore che sta facendo investimenti, che crede nello sviluppo di Piombino, a questo chiedono di rispettare gli impegni presi e di presentare il piano industriale che prevede la realizzazione del forno elettrico e dall'altra chiedono che ci sia maggiore attenzione anche da parte del governo per sciogliere una serie di nodi che riguardano le infrastrutture, che riguardano gli aspetti ambientali. È stato risolto anche il nodo dell'adeguamento del costo dell'energia per il nuovo forno elettrico. Il Presidente ha comunque chiesto al governo un maggiore impegno. Vedo che un'attenzione anche da parte del Ministro Patuanelli sarebbe importante, darebbe conforto a questa grande disponibilità che i lavoratori hanno e a questa volontà di una ripresa produttiva a pieno titolo di Piombino, tenendo presente che esiste l'ILVA, che è un grande problema nazionale, ma che la seconda siderurgia è appunto Piombino e che non si può a patto perdere. Un lavoratore a battuta diceva che non vorremmo che noi venissimo penalizzati perché abbiamo intrapreso troppo presto la strada della decarbonizzazione. Invece Piombino può essere davvero da questo punto di vista un modello, un riferimento positivo.